salve a tutti amici di youtube, oggi volevo farvi vedere un tutorial breve per un mio iscritto ossia, scusate campolo46 mi ha chiesto di come si mette questa barra qui c'è rocket doc, però io mi sono trovato meglio con nexus allora andiamo sul link che puoi mettere in descrizione il nostro browser ecco qui ecco abbiamo softonic download gratis io faccio download alternativo per nexus ok, eccolo qui io non lo scarico perché dopo aver scaricato tutti i procedimenti, next avremo questa barra qui allora si presenterà in un altro modo all'inizio per modificarla da un punto vuoto tasto destro e abbiamo nexus posizione dello schermo, il livello normale, il primo piano suggerisco sempre un ultimo piano poi abbiamo aspetto e suoni i temi della doc magari le vedete voi uno che vi piace dobbiamo le voci quindi quanto tipo l'ora quando c'è l'ora qui mi fa l'ora in italiano e poi abbiamo effetti al passaggio del mouse in balzo come ce l'ho io questo tipo così poi abbiamo scusate ecco ecco abbiamo molti fire tipo c'è il fuoco molti effetti carini per me c'è con rocket doc si devono installare invece qui già sono già dentro quindi a me sinceramente mi piace di più poi abbiamo l'interfaccia di rocket doc la lingua aggiornarlo e vabbè questo è tutto era un breve tutorial per far me l'aveva chiesto un utente ciao a tutti alla prossima